io 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 non ho parole ragazzi non ho veramente parole non ho veramente parole non ho veramente parole io ragazzi ve lo giuro non ho parole non ho parole e bello è che c'è gente anche che recrimina al contrario cioè no ma falli non dai nel primo tempo alla fiorentina già lì non dà la fiorentina sì ci sarà stato di sicuro qualche intervento un pochino così ho visto il fallo tanto citato che gente addirittura vuole rosso ma ripigliatevi e cambiate sport e guardate davvero le bocce di 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 zaleschi su caiode che caiode piglia no di caiode su zaleschi che caiode piglia in primis la palla in secondis la gamba non è arta quindi al massimo potrebbe essere fischiato fallo proprio massimo ma piglia la palla quindi già di base non ha senso fallo su christensen se non sbaglio trentacinquesimo sì quello ci stava quello ci stava sì ma cioè capisci che è un fallo normale cioè è un fallo normale si fischia non l'hanno fischiato ai ventiquattresimo a me non mi hanno fischiato per dirne uno perché ne posso dire un miliardo un miliardo ne posso dire ne posso dire un miliardo accidente a voi di obono accidente a voi a chi vi permette di fare una roba di genere ovvero tutta la serie a nel primo tempo è il ventesimo di obono dove tra l'altro si fa anche male di bala quindi coglione due volte lui va a ripigliare su un pallone va a fare fallo su artura a 20 metri dalla porta a 2 metri dall'area di rigore fallonetto anche da giallo tra l'altro non fischiato niente e poi appunto coglione di bala che si fa anche male deve anche uscire quindi bravo due volte non una ma due volte grande fenomeno ragazzi io veramente non so cosa dire la partita di ieri io un po un pochino romanisti io un pochino vi ho ogni cuore vi ho ogni cuore davvero perché io spero che ci sia qualche tifoso della roma che stia vedendo questo video ma sì ma insurtate i soliti battate un vincete un cazzo voi della fiorentina non contate nulla ma sì dai tiriamo fuori argomentazioni per non parlare dello schifo che si è visto ieri perché ieri ragazzi non era una partita è una merda quella roba lì è una merda ma non è colpa della roma e dei romanisti non è colpa di questa roba qui è una merda l'imprinting di murigno che dà alla partita ai giocatori di fare sempre tutta sta man bassa di andare sempre a protestare con l'abito per fargli proprio pressione psicologica falli reiterati palloni lanciati via oh ma ragazzi ma è imbarazzante è imbarazzante è imbarazzante è imbarazzante è imbarazzante io ve lo giuro ne ho viste tantissime di partite di calcio partite l'anno scorso dei rossi non dai quello su buonaventura di dimarco clamoroso il fallo sul rigore di fallo dal rigore sui conè non dato di tomori da ultimo uomo a milano a san siro tantissimi esempi due anni fa il rosso dato a caso a milenkovich giallo a belotti che si pigliano belotti da una testata a milenkovich poi a scaccaso rosso per milenkovich giallo per belotti io ne ho viste tantissime e questi sono solo gli ultimi anni e di quelli che mi ricordo ma ce n'è ma ce n'è una quantità ma proprio una quantità clamorosa per carità anche a me mi hanno regalato qualche cosa negli anni ma le conto veramente sulle dita di una mano contro sempre ogni cosa in questa partita ragazzi è successo di tutto di tutto di tutto e meno male ma guardate ma meno penso mi sarei sentito male lì meno male meno male che un m'hanno fatto vedere il fallo dal rigore con la mancini che allarghi i bracci in questa maniera la piglia di braccio quando viene fischiato fallo in attacco di martine su martine squarta che non c'è niente perché martine squarta assolutamente il fallo in attacco di chi di cosa che non tocca mancini gli passa solo davanti non lo tiene per la maglietta non gli pesta piedi niente lì fallo in attacco inventato a caso e lì non mi hanno chiamato niente accidenta di obono marelli perché me l'hai fatta vedere quella cosa lì guarda stavo molto meglio senza vederlo quel fallo dal rigore lì palese clamoroso stavo molto meglio senza vederlo ma stavo molto meglio perché all'ottantacinquesimo io sto sull'1-1 e loro stanno in 10 manca poco in 9 perché lucavo decide di fra un po' sfondare una gamba acqua me e lì la partita si porta sull'2-1 poi voglio vedere loro in 10 che fanno senza ribala senza nessuno voglio vedere loro in 10 che fanno accidenta ogni cosa davvero no ma a me mi regalano sempre tanto ma la fiorentina di mono non gli hanno fischiato dei falli nel primo tempo ah ma che ladri che siete oh ma ripigliatevi ma ripigliatevi ma che partita avete visto ma che partita avete visto ma davvero ma che partita avete visto ma davvero ma ripigliatevi porca puttana ragazzi oh mi posso nemmeno un cazzario quando c'è cazzo ma è stata una merda la partita di ieri è stata una merda un teatrino sempre ritirato di questa roba paredes che dio mono già con il giallo che fa un fallo bruttissimo al centrocampo su nico gonzalez rilancia la palla via tre volte tre volte regolamento alla mano fai perdere tempo alla scuola avversaria lancivi il pallone giallo giallo cristo arbitro niente non dago la roma minimo doveva stanotto in otto perché il giallo su poi giallo su zaleschi regalato perché barelli si inventa le cose perché poi in collico a fine partita c'è il tavolone dove c'è anche stefano borghi c'è borca valero c'è anche altra gente che gli dicano ma guarda guardi signor marelli non mi sovviene il nome guardi signor marelli probabilmente vorrebbe essere un fallo in ruento e anche lui infatti ritratta effettivamente è vero dai 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 ho detto una cazzata dai 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 ci sta ho detto una cazzata e poi gli prende amorosamente la gamba a caio de così proprio uno stronchino nella nella nel polpaccio nel polpaccio nello stinco di cosa si parla coglione zaleschi ragazzi a me mi hanno dato tanti doppi giallo in questa maniera se l'avesse fatto uno de mia l'avrei accettato perché vuol dire che sei un coglione sei un coglione perché caio de lì dove va è a centro campo dove va doppio giallo sacro santo il rosso sulla capo io spero minimo gli diano due giornate minimo perché quella è una roba bruttissima che se gli piglia bene 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 la gamba con me ha smesso di giocare per almeno se vuole riauminciare tra un paio d'anni forse ma anche due tre perché tivi apero ne spezza ogni cosa aiuto arrivederci e poi per un cristiano alto un metro e 90 come lui ci vuole ancora più tempo tanto ve lo sapevo avete a mia abram quindi io ragazzi ve lo giuro è una roba amorosa poi solito teatrino solito teatrino solito teatrino di murigno che non va in conferenza stampa io non voglio parlare sempre degli altri perché anche noi ci sa i nostri limiti perché infatti ora ci ho fatto le pagelle apposta che non siamo capaci di segnare il 9 contro 11 anche se si è giocato tre minuti di quei dieci famosi minuti in che la roma è stata in 9 che in superiorità numerica non riusciamo a segnare cioè se segnato ma non si riesce a sfruttare le occasioni perché la roma l'è tutta arroccata dietro noi non riusciamo a buttarla dentro quello è il filone sono d'accordo quello è il filone non riusciamo a buttarla dentro ma di ieri si deve parlare di tutto di tutto anche della fiorentina che non è capace di segnare ma di tutta la merda che si è visto in campo perché quella di ieri non è una partita di calcio non è una partita di calcio oh ma la roma è finita in 9 in 9 l'è finita facciamoci due domande e diamoci due risposte la squadra è piglia più gialle la squadra è piglia più rosa in serie svegliarsi svegliarsi per me io tifosi della roma io vi auguro murigno per altri 15 anni 15 ma anche 20 20 perché la roma con la rosa che c'ha se gli arriva poco poco un allenatore sta a giocare un pochino al calcio arrivano va arrivare in champions in ciabatte ma in ciabatte ma ora ora uno di aiuto io ma non si arriva in champions c'è in napoli c'è l'atalanta si sta ripigliando i bologna che viaggia ci siamo forse anche noi poco poco arriva uno che sa un pochino giocare il pallone che fa giocare la squadra il pallone la roma arriva ma in champions in ciabatte ragazzi lukaku dibala paredes pellegrini uar renato sanchez quand'è c'è anche gli esterni zaleschi spinazzola smolling ma anche se non c'è mancini gli orente il rui patrice in porta oh ma ragazzi ma una squadra da champions ma in ciabatte ma in ciabatte ma in ciabatte ma in ciabatte milan e i singoli della roma e adesso ditemi levato ovviamente i soliti fenomeni leao teo hernandez mettici giro ma bozo magnan lukaku dibala paredes pellegrini ok ok loro polini al centrocampo per carità bravi love to chic renders crunic dai 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 svegliarsi svegliarsi però speriamo appunto io auguro alla roma murigno per altri vent'anni e niente ragazzi facciamo le pagelle via oggi voglio far polemia sì voglio far polemia voglio far polemia allora pagelle ragazzi dei nostri giocatori ovviamente terracciano gli do un seino perché comunque sul gol è incolpevole fa una buona parata o comunque una buona deviazione sul cross nel mezzo non mi ricordo di chi potrebbe essere stato di zaleschi se non sbaglio vista la posizione che poi duncan lancia via però per il resto terracciano mai impiegato perché la roma ha tirato una volta in porta quindi gli do un 6 diciamo così anche perché non ha colpe ieri poi scusate difesa a partire da sinistra biraghi 6 partita sì normale insomma tanti cross abbastanza sbattimento come sempre qualche pallone perso sul sul gol non ci può fare niente perché perché non ci può fare niente però un seino glielo do per quanto riguarda la difesa a ranieri gli do 6 e mezzo perché un pochino più preciso ogni tanto si spingeva avanti per dare un pochino più densità alla squadra a livello offensivo visto che tanto in difesa soprattutto nel secondo tempo ci sapeva veramente poco da difendere visto che la roma non si portava praticamente mai avanti giustamente anche essendo in inferiorità numerica per larghi tratti della partita 6 e mezzo perché comunque apprezzo il coraggio comunque la voglia di provare a andare avanti poi quando gli ha detto a paredes che le ho miracolato per me lì può pigli a 20 per me lì può pigli a 20 però noi diamo diciamo i voti razionali perché sennò luca permetterei anche da 20 ieri davvero martine squarta 7 gran partita come sempre ultimamente martine squarta non ne sbaglia veramente una ora l'ho detto e la prossima farà vomitare gran gol tra l'altro si conferma gole ad or e questa ripeto questa cosa questo ruolo che gli ha dato italiano di andare avanti e spingersi avanti in questa maniera meno male meno male perché gli attaccanti ragazzi veramente non io ho un problema con questa squadra c'è meno male davvero che c'è buonaventura c'è nico gonzalez che c'è martine squarta questi giocatori che stanno segnando a ruota chi più motivo e chi per l'altro perché sennò davvero ragazzi si avessi veramente veramente male poi chi ma c'è ricaio caio degli do 5 e mezzo ieri non mi è piaciuto non mi è piaciuta particolarmente l'ho visto anche molto in difficoltà devo essere sincero forse aveva anche qualche problema fisico l'ho visto ogni tanto arrancare tirasse un pochino sulla gamba la coscia come se stesse facendo stretching perché magari gli faceva male non so se ieri ha sentito qualche cosa però l'ho visto molto lento c'è per esempio anche quando c'era zaleschi su di lui zaleschi andava via in velocità c'è il caio dei quando corre ragazzi non lo salta nemmeno a hernandez tra un po' cioè capisci quindi si vedeva c'aveva qualche problema e infatti si è fatto saltare diverse volte troppo 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 facilmente però gli do 5 e mezzo anche sul 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 goal dice c'ha tante colpe però io ragazzi a ogni nec gli do tutte ste grandi colpe perché è un inserimento buonissimo di lukaku tutta la difesa lì schierata quindi insomma sì ma ma no ragazzi un ragazzo di 2004 non è neanche un centrale quindi diciamo difesa anche messa abbastanza malino lì in generale diciamo tutta però vabbè poi mediana d'unca gli do 6 partita abbastanza normale in realtà diversi palloni persi però diversi anche recuperati ogni tanto si faceva qualche cross nel mezzo ogni tanto allargava su 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 kwame o su biraghi era sempre lì a smistare il pallone diciamo insieme a arthur che però per esempio io a arthur gli ho dato 6 e mezzo qualche cosa ne è più perché soprattutto quando c'era bisogno di smarcarsi dalla marcatura e far ripartire lui è un maestro in queste cose anzi cioè nel senso è veramente quando c'ha palla io ripeto quando c'ha palla arthur tra i piedi è davvero il famoso palla in cassaforte ragazzi c'è incredibile sta cosa non gli cioè io penso che gli si può andare addosso un 4 a arthur e non gli leverai mai la palla e c'ha questo dribbling tremendo che si gira prima da una parte poi dall'altra spalle con le spalle verso di te che te non gli riuscirai mai a leggere il movimento perché è anche troppo veloce avendo un baricentro così basso quindi io ragazzi arthur gli do 6 e mezzo perché non ha inciso più di tanto ha subito un fallo di merda da dibala che non gli hanno fischiato falla al limite però vabbè a parte quello in realtà diciamo una partita abbastanza ordinata poi tre quarti buonaventura 5 e mezzo ieri non mi è piaciuto devo essere sincero soprattutto anche a fine primo tempo poteva dare palla anzola oppure a icone che erano praticamente entrambi da soli soprattutto icone da una parte icone da una parte quando si è smarcato buonaventura era veramente da solo in mezzo all'aria quindi un pochino troppe scelte sbagliate poi per carità prende anche una traversa però non mi è piaciuto ieri buonaventura devo essere sincero vero che ingabbiato comunque in una roma che faceva tanta densità lì al centrocampo quindi poteva fare anche il giusto però non ho visto quel qualche cosa in più di solito lui ci mette tante volte ci mette qualche cosa in più ieri non gliel'ho visto fare infatti anche al 73 esimo 70 esimo l'è stato appunto levato dal campo poi icone gli ho dato anche a lui 5 e mezzo perché ieri non mi è particolarmente piaciuto qualche folato offensiva soprattutto nel primo tempo poteva dare un pallone lamoroso dare un corridoio di buono tra i difensori della roma per darlo a buonaventura da solo poi vabbè viene calpestato e quindi prendono giallo i difensori della roma non mi ricordo qui e forse è ristante però diciamo malino cioè ieri io mi aspettavo sinceramente molto di più nel secondo tempo riparte bene perché si smarca il terzino e prova andare al tiro che però viene neutralizzato da lui patricio ieri diciamo econe poteva essere servito un pochino di più però anche lui poteva servire un po di più quindi in realtà è stata una partita un po particolare da analizzare diciamo in generale non sufficiente ma non un'insufficienza grave poi qua me a qua me ragazzi gli do 6 qua me grande assist per il gol non tanto incisivo nella partita in generale però comunque soldatino qua me ragazzi il soldatino qua me soldatino qua me tutte le volte o da titolare o da subentrato si sbatte veramente tantissimo e è sempre utile è incredibile è sempre utile sto giocatore io lo vorrei tenere di buono fino a che davvero non finisce la carriera o come ultimo è come se riserva non come titolare però ragazzi qua me è utile sempre 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 io non capisco ogni tanto tutto questo astio che ha a Firenze verso sto giocatore l'era lo stesso discorso di saponare all'anno scorso non è il titolare però quando entra fa sempre qualcosa e perché lo devi da via ok poi nzola nzola ragazzi io gli do 6 e mezzo ieri la partita nzola e me garbacca si mangia un bove l'amoroso al diciottesimo ventesimo davanti a rui patricio che maledizione di buono vedi la differenza tra lukaku cioè odio lukaku e nzola in realtà qualunque altro attaccante nzola che nzola lì davanti ragazzi non è capace di buttarla dentro ancora fatto un gran gollo contro i parma sì però si vede ragazzi che l'è proprio un ballato bloccato ieri ha fatto anche tanti buoni movimenti in realtà e tante buone partenze per allargarsi per andare a smarcarsi dai due centrali tanti buoni movimenti infatti lo voglio premiare gli do 6 e mezzo perché ieri l'ho visto molto attivo però non è mai incisivo non è mai incisivo ma rimma maiala cioè noi non ci sa un attaccante che riesca a fa qualcosa peccato peccato perché ieri davvero bastava solo che potesse buttarla dentro il diciottesimo quando l'era da solo davanti alla porta ma rimane sarebbe stata tutta un'altra partita poi vabbè maxine lopese senza voto l'entrata l'era 83esimo 84esimo da lì si è giocato forse tre minuti praticamente sottile gli do 6 idem con patate ma l'è entrato altri 5 minuti prima ha dato qualche cosa ma niente di che appunto non si è praticamente mai giocato e nico invece gli do 6 e mezzo perché comunque l'entrata abbastanza propositivo colpo di testa che lui patricio neutralizza poi c'è stato un momento in cui poteva darla nel mezzo da solo e ha un pochino sbagliato e ci è arrivato appunto sempre lui patricio però quando entra nico ragazzi si è visto si vede che ancora probabilmente ci aveva tanti problemi e non è stato in grado di giocare dal primo minuto però c'è mancato c'è mancato nico gonzalezieri avesse giocato al posto di con e molto probabilmente sarebbe stata un'altra partita però sfortunatamente a questo giro c'era ce l'avevamo noi quello che ci mancava particolare e niente ragazzi io ragazzi è italiano gli posso dare 6 6 e mezzo cioè i cambi io ho visto tanta gente indignarsi sui cambi io non ho visto tutto sto tutto cioè non non vedo tutto questo 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 astio per i cambi perché magari io mi stavo messo maxin lopese ma mi ha levato a buonaventura ma che si fa così e cos'ha è stato tutto un discorso per dire buonaventura e stacco non ce la fa bene poi maxin lopese tu me lo metti magari per darmi qualche altra diciamo opportunità di mettere pallano in mezzo visto che tanto siamo tutti lì si sta cercando di scardinare la difesa sottile stato messo in campo magari potrebbe essere messo dal primo minuto mettiamola così però qua me ha giocato e ha fatto anche assist quindi io tutti sti grandi errori di italiano di ieri per esempio non ce li ho visti ho visto vi ripeto non una partita ma una battaglia di buono sanguinaria perché è stata una roba indicibile per la di ieri cioè non non esiste una roba del genere ragazzi non esiste non esistono si può parlare di partita di calcio e non mi veniva a dire è ma Mourinho gioca così e ma le squadre di Mourinho gioca così ragazzi ma dai ma che è ma che è 270 falli palloni reiterati buttati via arbitro che non riesce a capire più un cazzo dopo un po' perché gli fanno frullare il cervello a forza di ripigliarlo andargli muso a muso ma ragazzi ma è che è ma dai oh ma la juventus lo faceva l'icksteiner e bonucci ma loro due ma via ma qui lo fa tutta la roma lo fa tutta la squadra è una merda sta cosa qui è una merda è una merda è uno spot da non far vedere alle scuole calcio sta roba qui è cioè è una merda è una merda poi anche c'è a chi gli garba va bene tenetevelo a voi per favore io non è che voglio parlare di calcio guardiolano guardioliano perché c'ho italiano per carità di dio io c'ho tantissimi limiti come squadra però guarda che rosa c'ho io guarda che rosa c'ha la roma e siamo a un punto siamo a un punto a un punto perché poi la roma vince il novantesimo si sa come coi lecce coi monza coi sassuolo ok ok io ragazzi non ho altro da dire fatemi sapere la vostra sotto nei momenti con qualche voto qualche impressione della partita io però ve lo giuro sono veramente adirato sono veramente adirato alla partita di ieri e non riesco veramente a capire i tifosi romanisti che si attaccano a niente per giustificare una prestazione di merda che ieri si sono portate a casa un 1 a 1 che dovrebbero ringraziare il cristo dovrebbero ringraziare il cristo con un tiro a un porta fatto e finita la partita in 9 che noi non siamo stati in grado perché sanno coglioni e scarsi di buttarla dentro riassunto perfetto della partita ciao ragazzi grazie a tutti a